Benissimo, abbiamo messo a dura prova la sua voce, dopo lo faremo ancora, non più sull'SRAI, faremo una domanda un po' più generale appuntamento a dopo. Adesso invece passerei all'ultima fase del nostro incontro di oggi, che noi abbiamo chiamato semplicemente approfondimenti. Tra l'altro, visto che entriamo in questa fase, invito i nostri ospiti anche a interloquire tra di loro con i due microfoni, visto che mi sembra che il panel lo consenta. Inizierei a tal proposito dal dottor Bellingeri, magari chiedendo, penso che lo voglia fare, guardandolo negli occhi, magari di mettere qualche puntino sulle cose che hanno detto gli altri nostri ospiti. E poi, siccome al dottor Gian Ferrara, inizialmente ho detto, parla a nome di un gruppo composito globale, BlackRock lo può fare altrettanto. Per cui le chiedo, cosa ci possiamo aspettare di diverso in Italia, come applicazione di Mifid, rispetto a ciò che abbiamo visto altrove con normative simili? Mi verrebbe da fare una battuta sugli ETF, nel senso che abbiamo una gamma di SRA molto ampia, quindi sono assolutamente d'accordo sulla bontà dell'investimento, a parte gli scherzi. Io volevo ritornare un attimo sulla guided architecture, che ritengo un punto importante, che si lega anche col modello Fiolli, quindi non indipendente, diciamo independent-like. Sono d'accordo, perché se guardiamo il target market e prima avevamo a disposizione un'ampia gamma di prodotti, quindi fondi ad essere collegate, d'ora in avanti sarà molto più difficile, perché c'è un lavoro di due diligence e di nuovo ritorniamo ai costi per la struttura, quindi per la private bank, che aumentano e quindi è necessario, dal mio punto di vista, focalizzarci su una gamma ampia, comunque, però quindi lavorare in open architecture, ma non come prima, in una situazione dove, come nell'interno di gestione patrimoniale, avevamo anche 20-30 casi, quindi questo è la prima cosa. Per quanto riguarda il modello distributivo del Fiolli, non mi è chiaro il razionale del regolatore quando ha deciso che si debba appuntare una società diversa, quindi lo stesso bank o la sua società non può soffrire a due clienti diversi un servizio di consulenza, diciamo, tradizionale e uno o un altro indipendente. Questo non mi è chiaro, sinceramente per me ha un po' stoppato comunque la crescita di questo tipo di consulenza. Però, d'altro canto, noi possiamo, io lo dico da esterno, non rappresento un private banking, dal mio punto di vista una consulenza Fiolli, quindi che non indipendente, quindi diciamo independent-like, Fiolli ha tutte le caratteristiche per essere come all'interno delle gestioni patrimoniali, per eliminare dei conflitti interessi, perché anche, e qua, la classe poi dei fondi che si utilizzerebbe in questo caso sarebbe una classe istruzionale. Questo è importante, quindi la remunerazione per il banker è data dalla commissione, la parcella, che ricordo negli Stati Uniti, poi magari se ho un minuto racconto una storia sugli Stati Uniti, quindi rimane per il banker, il cliente paga meno sottostante, e può essere anche TF, qua faccio lo spot agli ETF. Dagli Stati Uniti, tutti voi conoscono qualcuno personalmente e qualcuno nel settore da tanto tempo come me, noi abbiamo imparato a operare in multi-manager open architecture, quindi c'erano le reti italiane che vendevano, erano monomarca, abbiamo imparato dagli Stati Uniti l'open architecture, quindi con questo flusso di manager che facevano Milano, New York, ogni settimana andavano a imparare delle grosse wire houses, quindi Mary Lynch, Morgan Stanley, quindi che sono assimilabili alle nostre reti, l'open architecture. E quindi è stato un bel insegnamento, è stato applicato molto bene in Italia. Purtroppo questo flusso si è un po' interrotto, perché dovremmo continuare a andare a imparare negli Stati Uniti, dove intanto è cresciuta molto la consulenza parcella. E vi assicuro che, parlando con loro, il banker degli Stati Uniti non guadagna meno di prima, non guadagna meno di prima, guadagna più di prima. Quindi come è passato prima al multi-manager, poi è passato alla consulenza, diciamo, al fioli, non la chiamo indipendente perché è molto stringente quella che ha previsto il regolatore. Quindi faccio questa considerazione qua. Sugli ETF, non so se poi abbiamo altre domande, non dico niente, nel senso che io penso che i banker italiani siano molto preparati, anche più della media europea. Conoscono molto bene i benefici degli ETF, lo possono notare all'interno delle gestioni patrimoniali. Penso che nessuno mi possa smentire quando dico che un portafoglio mediamente può essere investito in 20-30% in passivo, quindi il resto è inattivo, nessuno dice di sostituire completamente il portafoglio del cliente. Sappiamo benissimo che per questo non avviene. Quindi io trovo, permettetemi la battuta, però vergognoso che un cliente ultra network in un altro paese abbia mediamente il portafoglio di 10-20% di ETF e in Italia lo 0,7%. E quindi l'intelligenza della platea dei banker è elevata. E' semplicemente una questione di modello. Non so se qualcuno vuole magari prendere questa provocazione. Lo faccio volentieri. Prendo l'invito del dottor Barlassina di interloquire, quindi lo faccio con le due case prodotto che abbiamo qui, con il dottor Belingieri e la dottoressa Usai. Allora, per quanto riguarda gli ETF sono assolutamente d'accordo. E' vero che oggi gli ETF nei portafogli dei clienti in Italia occupano un posto molto ridotto. Ed è vero che devono occupare un posto molto più importante in futuro per almeno due motivi. Io ho 27 anni di carriera nel gruppo Bente Paribas, di cui due in Italia e tutto il resto tra Francia e Svizzera. In uno dei posti che ho occupato in Francia, lavoravo in Fanquest, che è la nostra società che si occupa della due diligence, delle società di gestione e la selezione dei fondi esterni. Ci sono delle circostanze di mercato nelle quali i fondi attivi non riescono a battere il mercato. In quelle circostanze di mercato lì è inutile andare a prendere dei fondi attivi. Il cliente è meglio negli ETF. Quindi uno dei grandi valori aggiunti della consulenza, come la chiamiamo oggi, la consulenza evoluta, che è quella che facciamo noi al BNL Private Banking, è proprio questo, è il fatto di sapere discernere i momenti nei quali bisogna andare sui gestori piuttosto attivi, oppure gli ETF. Si ha più valore su un ETF in certi momenti che sul fondo attivo. E non solo, ma negli ETF c'è una grande innovazione in questo momento, che sono gli ETF fattoriali, dove con lo smart beta si può andare a isolare un certo fattore di performance. Questo è il futuro. È un campo che è conosciuto ancora poco, sicuramente, e noi tutti ci dobbiamo formare su questo campo per utilizzare gli ETF fattoriali di più, perché penso che qui ci sia una fonte di performance, di valore aggiunto importante per il cliente. E non mi ha pagato prima, eh. Anzi, non si conoscevano nemmeno. Non ci conoscevano neppure, quindi ci credo molto. Volevo tornare anche su quello che diceva la dottoressa Usai, perché non volevo che aveste l'impressione che fosse l'unica a parlare di SRI in bene. Io mi schiero al suo fianco, nel senso che noi crediamo moltissimo ai fondi SRI. Se io dovessi esprimere i tre grandi, diciamo, driver del nostro contesto attuale, io ne troverei tre. Il primo è Mifid 2, perché effettivamente grandi novità a partire dall'anno prossimo, per la maggioranza di noi, non per il dottor Sanna, che già lo implementa. Il secondo è il digitale, e qui non abbiamo finito ancora di vedere le conseguenze della digitalizzazione della società, magari ci torniamo tra un attimo. E il terzo è la ricerca di senso, che è un po' legata anche alla digitalizzazione. Quando mettiamo il cliente al centro, quando il cliente è davanti al suo PC, è lui che clicca, è lui che va a vedere le cose che fanno senso per lui. Oggi l'esserai non è soltanto investire per l'ambiente, ma è anche un modo per il cliente di dare un senso ai propri investimenti. E voi non sapete quanto questa cosa sia importante. Nei questionarii di profilaggio dei clienti, che rifaremo passare ai nostri clienti dall'anno prossimo, perché la direttiva MIFID 2 ce lo richiede, di andare a cercare, di andare a sondare la tolleranza dei rischi dei clienti ed altri aspetti che dobbiamo conoscere meglio, noi approfitteremo per sviluppare ugualmente questi temi che non hanno niente a che fare con MIFID 2, ma che invece hanno a che fare con i loro investimenti, ed è che cosa fa senso per il cliente. E spesso l'esserai è uno dei modi per dare senso agli investimenti del cliente. Non tutti saranno sensibili a questa sfera, ma anche perché la conoscono poco. C'è una penetrazione in Italia che è molto più ridotta di quello che ci può essere in altri paesi come in Belgio. In Belgio c'è una penetrazione, i fondi SRI nel private banking di Bente Paribas devono rappresentare 25% degli asset totali investiti in fondi. Noi in Italia siamo al di sotto di questa percentuale, quindi abbiamo margini di progresso e sono sicuro che questo è uno dei campi nel quale questo progresso lo faremo, non solo noi, ma anche gli altri attori economici sulla sfera italiana. Quindi un buon avvenire per Candrium e la sua gamma di investimenti sostenibili. Anche loro non si conoscevano, diciamo che è questo. Io però, già che ho il microfono in mano, ne approfitterei per chiedere un po' la relazione tra i vari elementi di cambiamento e i vari elementi centrali per il futuro del banking, del private banking, in particolare su due. Uno è Mifid, ovviamente, perché è il centro della nostra giornata, e l'altro la digitalizzazione. Ossia, questo mix delle due cose, dove, verso cosa ci porta, a suo giudizio? Allora, ne parlavo un po' il dottor Caldana prima, e anche qui sono completamente d'accordo. Il RoboAdvisor. Allora, bisogna stare attenti a non fare delle generalizzazioni troppo semplicistiche. Di fatto, il RoboAdvisor non è tanto faccio gestire i miei soldi da una macchina, perché poi quando si va a vedere dietro il RoboAdvisor, c'è comunque un algoritmo che non è fatto da una macchina, è fatto da un team che è quantitativo e che l'algoritmo continua non solo a farlo, ma a manutenerlo nel tempo. Gli asset manager sanno che la gestione quantitativa riposa su dei modelli che sono rivisti tutto il tempo, perché vanno sempre modernizzati. Ma non è tanto quello che è importante. Quello che è importante è, vedete, nella digitalizzazione il cliente è al centro, è lui che guida. Allora, quello che mi sembra molto interessante, noi lo avremo, un'offerta di RoboAdvisor nel BNL Private Banking. Allora, perché lo avremo? Lo avremo perché per noi è una componente essenziale dell'offerta di domani. E mi spiego. Quando il RoboAdvisor è sicuramente uno dei primi metodi che sono a disposizione del cliente che noi potremmo definire i-private, cioè il cliente che va poco in agenzia, non ha il tempo di andare a incontrare il suo banker, vive la relazione con la sua banca e con i suoi investimenti a distanza. Se possibile, lo vive sul suo divano, in pratica, è la domenica mattina o il pomeriggio, secondo poi gli impegni di ciascuno. Allora, il RoboAdvisor è un primo metodo per fare due cose molto importanti. La prima cosa è familiarizzare il cliente con il concetto di consulenza. Io posso fare qualcosa con i miei investimenti, non ho solo i BTP, dove abbiamo ancora una concentrazione in Italia straordinaria investita nei BTP, ho anche un altro metodo per ragionare il portafoglio e preservare il mio capitale, che è quello di fare degli investimenti con un'ottica di portafoglio, quindi una consulenza. Il RoboAdvisor è il primo metodo che vi permette di investire una poca somma, si gioca con il RoboAdvisor all'inizio, ci si mette poco e tenete conto che in media, quando guardate le società di RoboAdvisor, i clienti investono 10.000 euro all'inizio e a regime vanno fino a 30.000, quindi non sono somme molto ingenti, però sono molto importanti perché permettono al cliente di apprezzare quello che è una consulenza. Quando un cliente sta utilizzando un RoboAdvisor vuol dire anche che sta ricevendo delle informazioni sui suoi centri di interesse. Il dottor Caldana ne parlava prima a giusto titolo, il profilaggio cliente, quindi le domande che le 25-30 domande che il cliente risponde prima di fare un RoboAdvisor servono anche ad andare a cercare i suoi centri di interesse e poi automaticamente il sistema manderà un push di informazione verso il cliente sui settori che interessano a lui, che sia la tecnologia, l'SRI, qualsiasi cosa e qui si sta parlando al cliente, l'ascolta questa lingua perché è la sua, stiamo parlando dei suoi centri di interesse. Questo è per me un buon inizio, un ottimo inizio per poi andare verso una consulenza più evoluta laddove in Italia oggi quando probabilmente un cliente ha un portafoglio della taglia di un milione difficilmente la metterà sul RoboAdvisor, cercherà una consulenza evoluta ma ci cercherà le stesse feature, lo stesso piacere che ha avuto lui nella sua customer experience con il RoboAdvisor ed è per questo che è una tappa fondamentale oggi il private banking con il RoboAdvisor il gruppo Benpe Paribas ha acquistato da poco Gambit che è un RoboAdvisor belga e noi abbiamo cominciato a lavorare con loro giustamente per creare la nostra offerta di RoboAdvisor ebbene è ottimo perché sono disruptive nel modo di lavorare rispetto a una banca ci insegnano a vedere il mondo in modo diverso in modo più agile noi diciamo agile cioè è inutile essere perfetti prima di andare sul mercato andiamoci già con qualcosa che funziona che sia safe anche se non è perfetto poco importa cammin facendo ci miglioreremo ecco e questo per me è il mondo di domani è un mondo dove la digitalizzazione ci porta a modernizzare non solo la sua offerta ma anche il nostro modo di lavorare quindi MIFID 2 arriva in questo contesto di digitale di ricerca di senso dei clienti e io penso che sia un denominatore comune tra questi tre fattori che permetteranno ai private banking di avere successo nel mondo di domani passerei la parola a tal proposito al dottor San nel senso per sapere se ha immagino di sì dei commenti su quanto ci siamo detti in quest'ultima fase e poi per una domanda così un po' birichina nel senso Fiolli qual è il valore aggiunto che porta in ottica a MIFID 2 visto che voi siete portabandiera allora quando siamo partiti noi abbiamo messo in piena l'architettura che è Fiolli abbiamo adottato la flat fee siamo completamente indipendenti quindi non abbiamo conflitti di interesse e in effetti usiamo molto gli ETF pochi singoli titoli Volkswagen Docet o Astaldi dell'altro giorno l'obbligazione ha perso 30 punti in due giorni quindi il singolo titolo diciamo lo privilegiamo solo su portafogli di alto profilo per cui pensiamo di essere partiti lancia e resta con questo conquisteremo il mercato dopo sette anni di attività vi dico che questa roba non vale niente non ha nessun valore cioè Fiolli indipendenza eccetera sono tutti termini tecnici che possiamo apprezzare noi dentro al sistema allora faccio un'azienda Fiolli perché perché gli anni di esperienza nelle reti tradizionali dove gli azionari pagavano il doppio degli obbligazionari mi trovavo sempre portafogli ad altissima volatilità e quindi dico perché ci deve essere questa conflittualità perenne dove il consulente è un imprenditore va di fronte al cliente e tende a vendere quello che ovviamente lo remunera di più lo remunera di più a parità ovviamente di beneficio per il cliente quindi abbiamo eliminato tutto questo abbiamo costruito un ovviamente un assetto che per il cliente è assolutamente blindato i soldi sono altrove quindi anche il cliente grosso che dice ho 10 milioni però voglio vedere la sera dove sono e non mi piacciono le black box la sera vede che il suo conto corrente il suo deposito su UBS o Leonardo ma alla fine uno si accorge che questa roba per il cliente non è valore questi sono presupposti e quindi venga il fiolli perché il fiolli mi permette di non entrare in conflitto io quando sono il direttore commerciale arrivava qualcuno con uno strutturato mi dice ti do 15 punti sul collocamento di questo strutturato e dico è faticoso dire di no pensando che quella roba vale 15 punti di front fee che non vede nessuno è difficilissimo quindi il conflitto di interesse parte da chi guida l'azienda non è solo a valle quindi il fiolli vi toglie da questo tipo di e quindi è auspicabile che si diventi fiolli però devo dire altresì che io non credo al modello della consulenza indipendente fiolli per singoli perché è troppo faticoso secondo me bisogna preparare la rendicontazione bisogna conoscere i mercati bisogna andare dal commercialista quindi noi quando siamo partiti l'idea era aggreghiamoci allora posso immaginare che i consulenti dipendenti abbiano senso nel momento in cui si aggregano in studi associati o qualcosa del genere però ritorno indietro il punto è la selezione dei prodotti e tutta la digitalizzazione secondo me consente di farlo in maniera automatizzata sempre più evoluta poi sulla personalizzazione o sull'industrializzazione se la digitalizzazione viene adottata in maniera corretta si può arrivare a cluster di clientela che siano uno a uno quindi io potrei avere tranquillamente gestioni patrimoniali fatte su misura per il singolo cliente impossibile da fare senza il supporto dell'informatica perché a mano non si può fare una roba del genere perché uno fa cinque linee a posto invece mano a mano che ci si evolve uno può prendere n parametri siccome me li gestisce la macchina che calcola molto più velocemente di qualsiasi team di esseri umani posso arrivare ad avere una gestione patrimoniale per cliente però torno indietro cioè nel senso se questo è possibile da realizzare c'è un problema di comprensione e in questi anni secondo me si è speso un po' poco sul format che invece nella cultura digitale è rigidissimo l'engagement il famoso funnel l'engagement come si comporta il cliente quali sono i feedback che nel mondo invece umano si è un po' trascurato nel senso che è un po' delegato ognuno utilizza il suo secondo me questo è il punto centrale su cui lavorare e qui la formazione diventa un punto cardine perché bisogna ritrovare un modello che tenga presente di chi è il cliente nella sua centralità e dove il prodotto e il servizio vengono dopo aver attraversato il mondo del cliente questo significa che è un format in cui perdo un sacco di tempo ma lo investo in realtà per far capire al cliente che cosa facciamo esattamente perché l'approccio del mercato è quanto mi dai che rendimenti avete avuto l'anno scorso perché ci identificano con il rendimento finanziario e tra l'altro ancora c'è tanta strada da fare sul fatto che il rendimento finanziario non può essere scisso dal rischio perché altrimenti non ha senso allora questo passaggio richiede che ci sia il famoso engagement mutuando la terminologia del web la comprensione da parte del cliente e il valore aggiunto che viene generato a valle di tutto questo semplice da dire molto più compresso da realizzare ma secondo me il successo si misura con i cambiamenti di comportamento che ha la clientela dopo che noi siamo arrivati cambiamenti di comportamento perché se lavoriamo bene vuol dire che cambia qualcosa nella percezione del cliente e comincia a implementare comportamenti diversi questo è il centro l'investimento non è un momento è un processo che poi dura costantemente perché anche qui il legislatore arriva e dice la product governance va rivista continuamente perché il rapporto con il cliente è proprio perché può cambiare forme o può avere esigenze diverse e cambia nel tempo io scherzando al telefono l'ho detto noi mutuiamo un modello della letteratura che se pensate è geniale dal punto di vista della comprensione di quello che sto dicendo ed è una novella che conoscete tutti che è il canto di Natale di Dickens non so se vi ricordate Ebenizer Scrooge è il protagonista tirchio di quella novella che fa delle cose perché al momento il denaro ha una specie di pulso verso il denaro non vuole elargirlo a nessuno lo vi ricordate in Conte e tre fantasmi ma l'ultimo gli fa vedere come sarà la sua vita alla fine e di fronte a quella visione della sua vita lui la mattina dopo se ricordate cambia comportamenti perché si rende conto che il suo comportamento di breve periodo non è coerente con gli obiettivi che lui ha di lungo periodo e quanti di noi si fermano a pensare cosa vorrebbero fra dieci anni pensiamo a domani al mutuo alle cose a proiettare il pensiero su è coerente quello che stai facendo rispetto a quello che vorresti è un processo difficile ma che alla fine se funziona e se lo riusciamo a metterlo in piedi il cliente si lega perché il metamessaggio è non sono qui per oggi ma sono qui per il resto dei tuoi giorni ad aiutarti a comprendere le cose ecco questo è un po' il tema centrale per cui scusate in questo contesto capite che fiolli piuttosto di indipendenza al cliente sono messaggi che non arrivano è come se andassi dall'oculista e mi dice sai che io uso una macchina della marca dico tu guarisci fammi bene la visita non mi interessa esatto fermo restando che sono presupposti importanti funzionali ma non sono percepiti dal cliente finale benissimo tornerei ci stiamo avviando la chiusura però tornerei veramente per l'ennesima volta a mettere alla prova la voce della dottoressa usai che voglio rassicurare è bellissima comunque come voce anche con un po' di faringite però se ci penso un po' tutta la nostra discussione di oggi è stata incentrata su un dualismo costi e rendimenti e così ci siamo mossi si è parlato anche di consapevolezza dei costi una maggiore consapevolezza futura con Mifid e allora anche qui una domanda forse un po' provocatoria è come asset manager state guardando a prodotti meno costosi a diciamo a rendere disponibili classi di prodotti meno costose a un pubblico diverso da quello che oggi può accedere a quelle classi Sì la ringrazio per questa domanda come vi dicevo all'inizio allora Candream è una società paneuropea e tra i vari paesi che copriamo a livello commerciale c'è anche l'Inghilterra come ben sapete nel 2013 l'Inghilterra ha adottato l'RDR che è una sorta di normativa che ha ispirato parecchio la Mifid ed è una normativa appunto che vieta al pagamento delle retrocessioni ai consulenti finanziari pertanto Candream appunto ha voluto continuare a coprire al meglio il mercato inglese e quindi ha creato delle classi che appunto si chiamano classi R che sono appunto le classi che non danno retrocessioni e hanno dei costi molto molto bassi diciamo che hanno delle total fee che sono abbastanza in linea con le classi istituzionali quindi insomma diciamo che attualmente copriamo l'80% tra l'80 e il 90% dei prodotti disponibili alla commercializzazione sul mercato retail con le classi Mifid compliant e adesso veramente ci avviamo alla chiusura e questa volta lo facciamo con il dottor Caldana naturalmente poi siamo liberi di avere ancora qualche minuto per qualche ultima battuta però lo faccio con Caldana perché anche con il dottor Caldana ci siamo sentiti prima di trovarci qui nei giorni scorsi e mi ha messo di fronte a una realtà che veramente avrei dovuto presentare in fase di presentazione perché giustamente la sottolineatura del dottor Caldana è sì arriva Mifid 2 ma arrivano tante altre normative quasi tutte contemporaneamente quello che quindi si sta avvicinando non è una una sola normativa che viene incidere sul nostro lavoro ma me ne ha forse citate tre o quattro e forse avremmo potuto andare avanti per cui le chiedo cosa chiamata tsunami regolamentare esattamente perché noi in Italia siamo abbastanza abituati però diciamo questa volta arriva da fuori direi che è interessante tutto quello che è stato discusso oggi alla fine i due temi centrali sono non è la guerra tra ETF e fondi ma la collaborazione nelle gestioni patrimoniali e la finanza comportamentare la posso anche gestire sono perso d'accordo attraverso la proficatura del cliente automatizzata per cui c'è tutto su me un discorso circolare intorno a quello che la MIFID e tutto lo tsunami ci porta a verificare io penso che oggi se facciamo una domanda alla Sara quante persone oggi perché siete circa 100 persone di varie età quante persone negli ultimi dieci anni sono andate in un'agenzia viaggi se potete alzare la mano gli ultimi dieci anni e se fate l'ultimo anno credo che una persona ok io quando sono andato in Lussemburgo era il 99 esisteva una sola compagnia e la faceva Milano Lussemburgo e la Bergamo si chiama Luxair oggi ci sono Luxair EasyJet Ryanair NetJet jet privati ci sono compagnie anche di medio a Italia piuttosto che Lufthansa cioè il mercato si è aperto il mercato come dicevamo prima cerca value for money cioè bisogna cercare di portare dei risultati ai clienti il cliente è disposto a pagare anche ad andare in Lussemburgo attraverso un jet privato se trova che quello ha un vantaggio se no ci va con EasyJet o ci va con Ryanair e oggi la tecnologia io quando sono andato in Lussemburgo le prime volte internet non c'era c'era andavo in agenzia facevo il bietto cartaceo oggi non c'è più niente di tutto questo eppure si viaggia si fanno affari il mercato è cresciuto e si va avanti per cui ottimismo ci sono le opportunità e tutto quello che abbiamo discusso oggi è cercare di trovare il valore per il cliente questo è importante perché noi oggi siamo barati dal nostro cliente direttamente o indirettamente ma questo è l'aspetto importante per cui sentivo prima una quasi una guerra ma non c'è una guerra tra etf e fondi secondo me c'è una collaborazione dove c'è valore per il cliente si compra etf dove c'è valore per il cliente si compra il fondo attivo mi sembra questo importante noi poi volevo fare un piccolo spot perché sentivo parlare molto di SRI noi abbiamo lanciato un progetto tre anni fa sia SRI sia Impact perché oggi quello che il cliente cerca nel private è anche degli aspetti legati al futuro per cui abbiamo fatto più fondi di fondi SRI per cui non siamo neanche in competizione abbiamo fatto una piattaforma Impact Investing perché i clienti chiedono anche questo per cui si sposta l'offerta tematica vegani vegetariani carnivori c'è di tutto nel mondo e questo secondo me la tecnologia ci aiuterà a risolverlo perché nel momento in cui e citavo prima questo esempio di questa profilatura che ho fatto questa mattina drag and drop una delle domande era che tipologia di film ti piace e io non ho capito perché mi è stato chiesto questa cosa però è interessante perché comunque posso accedere posso captare dal cliente le sue abitudini e poi andargli a proporre delle soluzioni questo è importante e lo vediamo tutti i giorni quando navigate su internet e dopo pochi istanti vedete che una pubblicità di fianco a voi dice compra quel servizio che avete magari appena cercato questo è il futuro e lo viviamo già per cui la tecnologia è la nostra salvezza mi sembra che questa sia stata la conclusione più degna di tutta la giornata è riuscito a mettere insieme benissimo tutto ciò di cui abbiamo detto apprendo anche una finestra sul futuro quindi direi che qualche domanda esatto esatto se non ci sono domande dal pubblico magari lasciamo un'ultima considerazione a ciascuno dei nostri ospiti anche se siamo stati abbastanza lunghi però chiedo se ci sono domande dal pubblico a questo punto ecco una magari può portare il microfono buongiorno la domanda che volevo porre al panel è di attualità diciamo anche politica economica cioè si discute in questi giorni dell'entrata dei commercialisti nell'albo dei consulenti finanziari volevo chiedervi appunto uno quanto è fattibile allo Stato insomma alla luce di quanto sappiamo al momento e poi cosa ne pensate mi sembra che stamattina sia passato l'emendamento il secondo emendamento se non ho visto male uno dei nostri siti che è Blue Rating prego prego allora sul fatto se passi o meno non faccio previsioni è stata prima proposta poi emendata poi è chiaro che qui ci sono gli interessi di parte che vengono tutelati da rappresentanti a me fa sorridere la cosa perché l'accesso libero vuol dire che il giorno dopo questo fa consulenza finanziaria e dico e chi è il cliente cioè sinceramente come se andassi dal medico dice già che ci sei ti faccio anche che ne so al 740 cioè scusate non si chiama più così però per capirci mi servo appunto di un commercialista questo errore se vuole io quando ero in Banca Sara che era di proprietà dell'ACI l'ACI si era messa in testa di vendere i fondi nelle agenzie ACI io ho una follia il cliente entra per fare il bollo e dice guarda già che ci sei ti faccio anche il fondo non ha mai funzionato perché c'è un'aspettativa credo che fosse la Wells Fargo apri i corner per aprire i conti correnti nei supermercati non funzionò perché la gente va a comprare le banane e poi si trova il conto corrente da aprire per cui benvenga che aprano questa cosa benvenga nel senso facciano come ma secondo me avere l'accesso alla professione poi possiamo discutere sui requisiti però qui le faccio una domanda secondo lei l'esame da consulente finanziario oggi è coerente con l'attività che poi si trova a svolgere il consulente le lascio questa finestra aperta il fatto che abbiano accesso alla professione poi secondo lei un commercialista oggi che faccia il suo mestiere ha tempo per fare consulenza finanziaria il mio ormai non mi guarda più nient'altro che quello che arriva dall'agenzia dentata nei provvedimenti e si muove già il giorno mi chiama dice guarda adesso la macchina non si può più dettagli cioè non ha tempo mi ha detto io potrei fare consulenza aziendale non finanziaria ma non ho tempo per farla per cui o faccio l'uno o faccio l'altro ma mi sembra più che altro qualcuno acquisendo un po' di voti ha detto vi faccio qualcosa per voi come può essere un buon sindacalista nella mia tradizione dottor Beningieri allora io su questo non mi esprimo però no faccio una considerazione che la faccio all'industria quindi tramite secondo me è giunto il momento di quantificare in termini di basis point o in termini assoluti quanto vale l'attività di consulenza perché noi continuiamo a parlare di prodotti quindi prodotti più o meno costosi prodotti che lanciamo le classi istituzionali le classi fioli diminuiamo i prezzi eccetera però mi sento molto vicino al private banking stamattina sarebbe utile allora faccio un passo indietro i robot advisor adesso io non parlo di robot advisor che è un tema noi l'abbiamo lanciato con una banca qua nel 2015 prima ancora di acquistarla come black il robot advisor deve costare 10 basis point ok 10-15 basis point all in se costa di più per me non c'è è già troppo però dobbiamo quantificare qual è il valore del banker che è più elevato di quello che emerge è più elevato di quello che verde se noi continuiamo a nascondere il valore della relazione personale dentro i prodotti è un peccato per il banker perché continuiamo a spostare l'attenzione sui prodotti è sempre un confronto tra prodotti e servizi e il banker viene da parte quanto vale la relazione che ha col cliente e il banker dal mio punto di vista tanto però qua stiamo spostando l'angolo di attenzione parliamo solo di prodotti allora è logico che se io propongo un prodotto che costa 2,5 3,5% e uno che costa 10 basis point scusate ma prendo 10 basis point magari la parità di performance o magari anche se meglio quanto vale il servizio del banker in basis point questo lo lancio all'industria e mi do un rispondo continuiamo a parlare di aumentare i servizi diminuire i costi del prodotto quanto vale il servizio del product banker io dico tanto cerchiamo di quantificarlo quindi dovrei avere se il robot vale 20 che non esiste non il robot lo sapete che non esiste cioè si tratta di servizi digitali gestioni quantitativi che facevano 30 anni fa gestioni patrimoniali noi l'abbiamo fatto per primi gestioni patrimoniali che sono venute online quindi non esiste il robot però se quello mi può costare x basis point quanto mi costa il banker qual è il valore non quanto mi costa il banker cerchiamo di scendere i due costi del banker dal costo del prodotto vediamo cosa emerge lancieremo proveremo a lanciare almeno un sondaggio ci sono forse altre domande in sala dalla sala forse forse no forse no beh io a questo punto visto che siamo anche andati oltre il nostro orario vi saluto vi ringrazio per l'attenzione buonissima e ringrazio i nostri ospiti soprattutto per gli insight per gli spunti che ci hanno dato e per le cose anche che ci hanno insegnato io devo essere onesto stamattina esco di qui sapendo molte più cose rispetto a stamattina benissimo grazie ancora e al prossimo anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti